Grazie Presidente. Ma guardi, il tasso di melassa che oggi c'è in quest'Aula è pari probabilmente soltanto a quello che c'era quando abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul per la violenza sulle donne. Tante bellissime parole. Poi magari dopo due settimane invece si è provveduto a depenalizzare tutta una serie di reati che con la violenza delle donne invece una certa affinità ce l'avevano. Quindi siamo in un momento di quel tipo lì, un momento nel quale ci si sente buoni perché in quel caso si diceva che bravi affrontiamo una piaga sociale come violenza delle donne. Oggi invece ci si sente buoni perché le migliaia di morti che ci sono state e che ci saranno, che ci sono oggi, ci saranno anche settimana prossima, insomma ci saranno fino a quando voi non capirete che la politica immigratoria di questo Paese è sbagliata e comunque sono onorati quindi siamo tutti più belli e poi possiamo andare anche tranquillamente a mangiare. È il festival dell'ipocrisia e l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto e lo diciamo anche in sede di dichiarazione di voto finale. È una classica operazione con cui solitamente ci si lava la coscienza, con cui si dice sì ci sono i morti, certo continuano. Ho sentito prima dagli interventi di esponenti che sostengono questo governo in cui si diceva sì i morti continuano ma insomma l'Europa dovrà fare qualcosa. Da quant'è che dite l'Europa dovrà fare qualcosa? Da quant'è che un esponente che voi conoscete molto bene, l'ex onorevole Mogherini siede nella torre eburnea dell'Europa con un altisonante titolo. Insomma chi è che deve fare qualcosa su queste questioni se non l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune? Chi deve fare? Chi è l'Europa? L'Europa signore se non lo sapete è la Commissione europea in cui la Mogherini, vostro esponente, ha una qualche competenza, ha un'assoluta competenza su temi di questa materia. Così mentre voi dite l'Europa deve fare qualcosa, state accusando il vostro esponente di sedere sulla sedia per scaldarla e basta perché i dati di fatto sono questi. E non sarà sicuramente l'istituzione di una giornata della memoria delle vittime dell'immigrazione che trasformeranno il fatto storico e che permetteranno a voi di deviare la responsabilità verso entità più o meno determinate tipo l'Europa. La responsabilità di quello che avviene, la responsabilità di quello che è avvenuto negli ultimi tre anni è solo ed esclusivamente di chi in questi tre anni in Italia ha ricoperto incarichi di governo ed è il Partito Democratico e coloro che sostengono anche oggi il governo Renzi. L'intervento dell'onorevole Rampelli prima ricordava appunto come le decine, le migliaia di morti in mare non ci sono sempre state. No, questi numeri ci sono soltanto negli ultimi anni e la responsabilità ancora sapete di chi è dell'Europa che ha bombardato la Libia ed è l'Europa, la mamma in cui voi vi riconoscete, che dopo aver bombardato la Libia e dopo essersi così anche in questo caso in modo molto ipocrita, quasi gloriata di quello che stava avvenendo sulle coste del Nord Africa, cioè le famose primavera arabe, non è riuscita ad affrontare le conseguenze di quello che sta avvenendo. Io ho sentito, onorevole Presidente, anche durante la discussione tutta una serie di interventi che non hanno, permettetemi di dire, né capo né coda. Ho sentito gente citare gli Stati Uniti d'America, dicendo addirittura negli Stati Uniti d'America il mondo è cambiato, non è più quello di cento anni fa nei confronti dell'immigrazione. Allora, l'onorevole Zitti, che prima parlava di politica dell'immigrazione degli Stati Uniti d'America, invito appunto l'onorevole Zitti a parlarne anche con la California, Texas, il Nuovo Mexico e l'Arizona, in cui proprio sul confine con il Messico vi è un muro, un muro costruito per opporsi all'immigrazione clandestina e questo c'è anche oggi, dove in America governa il lume tutelare dalla sinistra mondiale, vale a dire il Presidente Obama. Ho sentito prima citare anche altri esponenti che attaccavano la Lega dicendo, ma voi vi lamentate di quello che avviene, forse per voi non sarebbero neanche accolti. Sbagliato, sbagliatissimo, questa è la propaganda che voi continuate a fare, questo è il modo in cui voi affrontate le legittime recriminazioni che su questo tema la Lega Nord porta avanti. L'aiuto nei confronti di coloro che si trovano in situazioni di emergenza nel mare è stabilito dalle regole internazionali. Qua nessuno dice che queste persone non debbano essere aiutate. Qui, e questo noi ribadiamo, queste persone secondo noi vanno aiutate, rifocillate, curate se in condizioni di pericolo di vita, dopodiché vanno rimandate da dove vengono. E si dice, ah ma che modo di ragionare è questo, vergognatevi. Beh, è quello che fa quotidianamente l'Australia, che mi sembra che seda all'ONU, che mi sembra che partecipi a convenzioni internazionali con parecchi altri stati, insomma l'Australia che mi sembra che sia uno stato civile. L'Australia, che come tutti sapete, è terra di immigrazione. L'Australia è stata costituita da immigrati e nei confronti dell'immigrazione l'Australia ha una politica che noi vorremmo venisse replicata anche in Europa. Ecco qual è la posizione della Lega Nord nei confronti dell'immigrazione. Vi invitiamo veramente, oggi voi vi voterete questa bella legge, ovviamente la legge, la Lega vota contro. Il 3 ottobre sicuramente vi farete invitare dai vostri amici professori, dai vostri amici presidi nelle varie scuole ad andare a parlare di immigrazione. Ecco in quei giorni lì, come ho avuto occasione di ricordare prima, vi invito a dire ai giovani, a questi ragazzi, ai bambini magari, ecco perché scuole di ogni ordine e grado significa che qualcuno andrà a parlare anche con bambini di prima e di seconda elementare. Andate a dire che il problema degli immigrati in Italia non è assolutamente risolto, che la gente continua a morire, malgrado ci sia al governo ormai da anni, la più grande forza della sinistra o dell'ex sinistra o comunque che si rifà ai valori della sinistra in Italia, malgrado appunto questa forza, ormai governi da anni. Guardi, signor Presidente, abbiamo avuto occasione di dirlo e lo ribadiamo. Nei confronti dell'immigrazione ci si può porsi in due modi, o con un sentimento da libro cuore, quindi dicendo insomma quello che avviene altro non è che colpa dell'Occidente cattivo, quindi noi in Italia abbiamo responsabilità storiche nei confronti delle persone che vengono qui da noi e quindi insomma scappano tutti dalla guerra e allora vorrei chiedere, perché oggi sono sbarcati, sembra un centinaio di persone provenienti dal Bangladesh, chiedo che guerra ci sia oggi in Bangladesh perché a me sfugge quest'ultimo conflitto armato, oppure nei confronti dell'immigrazione ci si può porre in un'altra maniera, cioè in un modo pragmatico, in un modo degno diciamo di qualunque Stato civile. Perché guardi che nel momento in cui noi oggi istituiamo questa giornata della memoria, ci troviamo anche a dover ricordare che queste vittime in parte sono responsabilità nostra, non nostra che stiamo a posizione, ma vostra che siete al Governo. Perché permettete, avete permesso con l'operazione Mare Nostrum, permettete con l'operazione Triton, Frontex, quello che è, di sviluppare in queste persone che scappano una facile illusione, cioè quella che comunque questo il tragitto sia sicuro, assolutamente sicuro, che sia semplice, che sia soprattutto un viaggio che dà assolutamente qualunque tipo di sicurezza totale. Ebbene, così non è, e non continuate a nascondervi dietro il dito dell'operazione Mare Nostrum, perché prima di arrivare su queste coste i mercanti di morte organizzano viaggi attraverso i deserti, viaggi nei quali vengono commesse le peggiori atrocità che possono essere descritte. Violenze, stupri, assassini, vendita, che mi avvio alla conclusione, vendita di persone che partono per arrivare in Europa, venduti appunto a mercanti di schiavi che chissà dove li fanno arrivare. Oggi l'immigrazione e il commercio che vi sta alle spalle è sostenuto dalle politiche miope, stupide, buoniste, che anche il Governo italiano sta portando avanti. Ecco perché, signor Presidente, al di là di tutte le accuse di essere beceri, cattivi, violenti, di non avere questa apertura sia mentale che spirituale che invece voi avete, la Lega Nord voterà convintamente no a questo festival dell'ipocrisia. Grazie.